Questa settimana continua a diminuire il tasso di incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa a 143 casi per 100.000 abitanti. L'RT mostra invece una lieve tendenza risalita, siamo a 0,91, comunque ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 10,1% e al 3,1%. Quindi osserviamo un'ulteriore e decisa diminuzione dell'occupazione dei posti di area medica mentre assistiamo a una sostanziale stabilizzazione dell'occupazione dei posti di terapia intensiva. Quindi tutto sommato la situazione appare per il momento a essere sotto controllo.